Musica Mentre avete appuntamento con il Consiglio è il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana sono tre temi che affronteremo in questo nostro appuntamento ecco i titoli In primo piano la crisi del maggio musicale fiorentino la comunicazione della Giunta sulla crisi e poi è stata presentata la campagna del Fratres Donare sangue alla ricetta della felicità premiati anche i vincitori del premio tesi dell'Aurea 2022 in ambito neuro-riabilitativo sono tanti giovani e le loro tesi di laurea Il primo tema che affrontiamo in questo nostro incontro riguarda il maggio musicale fiorentino un focus attraverso la comunicazione della Giunta regionale sullo stato dei crisi economico-finanziari della Fondazione accanto alla qualità del maggio e alla programmazione a livello però è venuta in evidenza quella che è la situazione del comportamento del sovrintendente Pereira già oggetto di due procedimenti il primo avviso di garanzia per le spese di rappresentanza e il secondo per i 40 milioni di euro per il ripiano del debito consolidato il Presidente della Regione Eugenio Gianni parlando della stretta collaborazione tra il Sindaco Nardella in qualità di Presidente della Fondazione e del Ministro San Giuliano sottolinea come sia importante associare al futuro sovrintendente o commissario anche la figura di un direttore artistico Comunque a conclusione del confronto in aula il Consiglio ha approvato due dei quattro ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia respinti invece gli altri due atti di indirizzo Oggi la situazione del maggio musicale è drammatica ma non è drammatica da cinque giorni è drammatica perché è figlia di una gestione disastrosa che si è avvicendata negli ultimi 15 anni dalla sovrintendente Colombo passando per Francesco Bianchi salvo il periodo di Chiarò che evidentemente non era abbastanza spalleggiato alla politica per meritare il maggio musicale tanto che dopo di lui il Sindaco Nardella che è il Presidente della Fondazione del Maggio Musicale ha voluto portare a Firenze Pereira Pereira è un fuoriclasse del mondo della Fondazione Lirico Sinfonica ma i fuoriclasse costano i fuoriclasse costano e quando arrivano a fine carriera a gestire un teatro che probabilmente per lui è un teatro di serie B abituato a Salisburgo, a Milano evidentemente lo si fa anche con la leggerezza che poi ti porta a pagare il salmone con la carta di credito del maggio musicale quindi una gestione scellerata che è frutto però non di una roba che inizia ieri ma di una roba che inizia 15 anni fa quando prima il Giglio Magico di Renzi doveva utilizzare il maggio per lanciare i rampolli manageriali stile appunto Francesca Colombo che ci ricordiamo soltanto aver tentato di aumentarsi lo stipendio e non per aver gestito il teatro oggi su questo non ascoltiamo mezza parola da parte del Partito Democratico inutile che poi si votino gli ordini del giorno dell'opposizione che invitano a fare un maggior controllo a far più attenzione alle spese in futuro oggi noi abbiamo presentato quattro atti due chiedevano una maggiore attenzione per il futuro e ok su questo c'è stata la convergenza ma due parlavano di soldi e parlavano di soldi perché uno, volevamo garantire che ai lavoratori del maggio venissero pagati gli stipendi visto che oggi era l'ultimo giorno utile e su quello non c'è stato il voto della maggioranza e l'altro voleva semplicemente riflettere sui contributi a pioggia elargiti da comune e regione a queste strutture il pubblico ha il dovere di elargire contributi per la cultura ma ha il dovere di elargirli se vi è una gestione virtuosa se chi è chiamato a gestire questi enti lirico-sinfonici lo fa come l'ha fatto Pereira negli ultimi mesi pagando il salmone con la carta di credito non si può pensare che la regione elargisca 2.900.000 euro di contributi come se niente fosse in tutto questo mi auguro che il nuovo sovrintendente il nuovo commissario il dottor Cusaia che il sindaco Nardella ha scelto e ha portato sul tavolo del ministro San Giuliano che immagino nominerà perché il ministro San Giuliano ha rispetto del territorio e della volontà espressa dal territorio mi auguro che stavolta Nardella sia un po' più oculato nella scelta perché ricordo a tutti che quando sono state scelte la Colombo quando è stato scelto Bianchi quando è stato scelto Pereira il principale attore di quelle scelte era Dario Nardella quindi oggi speriamo che sappia scegliere in maniera differente in maniera più oculata io ritengo che il consiglio del maggio abbia corrisposto a quello che il ministro chiedeva ovvero una rapida possibilità di sostituire nel ruolo di sovrintendente Pereira e questo il consiglio ieri l'ha fatto deliberando all'unanimità su un nome di qualità di assoluto rigore di grande competenza ma anche di grande attenzione ai conti di un'istituzione come il maggio come Cutaia io penso che sia quasi naturale che debba essere nominato sovrintendente passare da un percorso commissariale a mio giudizio non sarebbe giusto non sarebbe corretto per un'istituzione così prestigiosa che si può aver avuto momenti di crisi ma è un'istituzione che sta portando delle realizzazioni di opera lilica che sono diciamo di richiamo nel mondo il maggio sta manifestando un profilo che è davvero un profilo di straordinaria eccellenza e quindi io lascerei fossi il ministro percorrere con Cutaia quello che è una gestione ordinaria che si rinnova nella continuità con quello che è il grande prestigio che per la Musile Galirica sta portando il maggio naturalmente gli uffici hanno fatto quella valutazione perché l'avevamo ipotizzata se non vi fosse stato uno sblocco della situazione al maggio ma questo sblocco con le dimissioni di Pereira e con la tempestiva nomina di Cutaia da parte del Consiglio di Diritto a questo punto vengono meno quelle preoccupazioni quindi indubbiamente i 2 milioni e 9 che sono il contributo che la regione dà al maggio naturalmente tutto suffragato da quelle che sono le esigenze di documentazione tecnica verranno a mio giudizio mantenute anche per l'anno in corso e quest'anno il maggio ne avrà ancora più bisogno è stata presentata all'interno del Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso la campagna Fratres Toscana donare sangue alla ricetta della felicità alla campagna è già partita da qualche giorno in tutte le farmacie della regione le medicine vi sarete accorti vengono consegnate all'interno dei sacchetti di carta con il logo della Fratres Toscana con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di potenziali donatori Fratres Toscana può contare su 12 consigli territoriali 285 gruppi e oltre 1000 volontari questa è l'idea che abbiamo voluto mettere in campo per il 2023 riduci da altre esperienze nell'anno scorsi con altri tipi di promozioni di questo tipo abbiamo voluto tentare sulle farmacie cioè in questi luoghi che comunque sono frequentati da numerosissime persone molte delle quali magari anche sensibili a questo argomento che è la carenza appunto del sangue come abbiamo registrato soprattutto nell'anno 2022 e quindi nell'intento di cercare di prevenire quello che l'anno scorso è stato un brutto momento per la grossa carenza delle donazioni ecco che abbiamo messo in campo da qualche giorno a questa parte questa nuova campagna la carenza dell'anno scorso che è stata una carenza di donazioni su tutto il territorio nazionale ha messo in crisi il sistema trasfusionale quindi comunque il sistema sanitario perché non era neanche facilmente reperibile il sangue dalle altre regioni che normalmente invece in certe situazioni danno supporto alla Toscana quindi proprio per cercare di non rivivere i momenti critici dell'anno scorso siamo cercati di partire con delle campagne per poter sensibilizzare le persone a diventare donatori che quello che manca sono nuovi donatori perché ovviamente le persone anziane c'è necessità di turnover e i giovani sono sempre meno giovani questo nella popolazione e bisogna in qualche maniera cercare di trovare fra loro e comunque tra tutti chi loro che possono farlo nuovi donatori Toscana è una terra che non si è mai voltata all'altra parte così i suoi cittadini credo però sia importante ancora di più in questo momento mandare un messaggio forte insieme a Fratres dire che donare sangue vuol dire donare vita e chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana che può farlo di fare la propria parte è importante ancora di più in questo tempo e credo che le istituzioni debbano avere anche il corso compito di sensibilizzare di sensibilizzare in questa direzione c'è bisogno di nuovi donatori noi sappiamo che la Toscana ha una grande realtà di associazioni che riescono a tirare a convincere tante persone ad andare a donare però non siamo ancora sull'autosufficienza di sangue che sarebbe un obiettivo veramente importante da poter raggiungere sappiamo che è importante donare il sangue è importante donare il plasma e allora ecco questa iniziativa di Fratres oggi è un'iniziativa fondamentale perché appunto la Fratres come le altre associazioni hanno un ruolo di andare a cercare i donatori a parlare con ognuno di noi con i ragazzi più giovani anche in vista delle future donazioni con le famiglie con le scuole per far capire anche con piccoli gesti anche quando si compra e pane anche quando appunto si va in farmacia ora a comprare un farmaco ricordarsi poi che con un piccolo gesto si può aiutare le persone quando stanno male il sistema sanitario a funzionare la produzione di farmaci importanti per la salute di tutti noi quindi veramente è una scelta che ognuno di noi ha e che le associazioni ci ricordano di poter fare e che serve a tutto il sistema sanitario Sono cinque gli studenti premiati dalla fondazione Gianfranco Salvini per le tesi di laurea 2022 con contenuti innovativi nella neuro-riabilitazione a ospitare la cerimonia di consegna dei riconoscimenti in sala gonfalone del palazzo del Pegaso e a vincere il premio a 2.000 euro destinato alla tesi di specialisti in medicina fisica e riabilitativa è stata Stefania Spina dell'Università di Feoggia ma sono anche altri 4 riconoscimenti da 1.000 euro ciascuno per lauree triennali nelle classi delle professioni sanitarie e della riabilitazione Noi sappiamo che i luoghi dove la cura funziona meglio e dove la ricerca si sviluppa e dove si riesce a trasferire sulla parte clinica l'attività e i risultati della ricerca Allora la fondazione in questo caso fa questo premia quei ragazzi che hanno fatto ricerca quelle persone che hanno fatto ricerca e che sono riusciti a trasferire parte di questa ricerca sull'attività in questo caso di riabilitazione quindi una finalità assolutamente in linea con quelle che sono della regione tutta e in genere del mantenimento e anzi dell'elevazione del sistema di qualità del sistema sanitario toscano abbiamo centrato l'obiettivo quello di creare una cultura dopo di noi dopo le persone che in questo momento si stanno impegnando in questo ambito davvero importante della neuro-riabilitazione significa investire sui giovani significa fargli comprendere che le istituzioni sono vicine a loro il centro ricerche della clinica di riabilitazione toscana appunto ha da sempre una collaborazione con la fondazione Gianfranco Salvini abbiamo ricevuto finanziamenti nell'ambito della nostra attività di ricerca di tipo traslazionale quindi un'attività di ricerca che cerca di produrre dei miglioramenti nella qualità dell'assistenza al paziente proprio attraverso la sperimentazione attraverso il confronto e anche attraverso la diffusione di nuove strategie di cura la fondazione Gianfranco Salvini dopo aver promosso una serie di progetti estremamente importanti in campo riabilitativo ha deciso due anni fa di dedicarsi proprio ad incentivare la ricerca per i giovani cercando anche di investire le risorse che la fondazione ha a disposizione per favorire proprio la ricerca per favorire la ricerca e per favorire quelle che sono le buone idee che nell'ambito della neuro-riabilitazione possono nascere dagli studi dalle tesi fatte dai ragazzi la tesi che mi ha portato poi alla vittoria di questo premio riguarda l'utilizzo di una tecnologia a base di sensori inerziali applicata alla valutazione del paziente con ictus quello che ho fatto è stato appunto aggiungere questa tecnologia alla valutazione di questi pazienti e ci ha permesso di avere dei dati in più per valutare una di quelle attività più frequenti della vita quotidiana che è appunto il turning la capacità di girare del paziente e questi sensori appunto ci hanno dato dei dati in più per valutare fattori di rischio di caduta e altro e ci hanno permesso appunto di avere un follow up del paziente migliore e ho svolto un lavoro di tesi dal titolo attività assistita con animali nella sindrome di Rett ipotesi di trattamento di supporto finalizzato al potenziamento delle abilità cognitive dunque l'oggetto della tesi è la sindrome di Rett che è un raro disordine del neurosviluppo che ha un'incidenza di uno su diecimila nate vive e questo studio è stato svolto in collaborazione con l'ACS Lazio in quanto sono stati appunto utilizzati i cani da salvataggio di questa associazione e l'obiettivo dello studio è stato quello di dimostrare come l'attività assistita con i cani da salvataggio svolta in acqua potesse essere un valido strumento di supporto a quelle che sono le terapie tradizionali ho fatto la tesi sull'asma che è una malattia genetica rara è l'atrofia muscolare spinale di cui si sa molto poco ho elaborato un protocollo di valutazione della deglutizione in modo da aiutare sia i bambini sia le famiglie in generale per una presa in carico e una migliore qualità di vita la mia tesi aveva come obiettivo quella di individuare di verificare la fattibilità e la sicurezza dell'utilizzo di stimolazioni uditive ritmiche nel trattamento di persone con malattia di Parkinson in un contesto però di teleriabilitazione dato la recente pandemia da Covid-19 e dato il fatto che la letteratura ultimamente sta spingendo molto sull'utilizzo di tecniche di trattamento hands off rispetto a quelle invece che richiedono il tocco terapeutico la mia tesi della laurea triennale ha riguardato l'utilizzo di realtà aumentata nei pazienti con stroke presso l'unità di stroke unit delle scotte di Siena e con questa tesi ho utilizzato un visore Microsoft HoloLens che permetteva di aggiungere degli ologrammi alla realtà circostante e con questo studio sono riuscita a dimostrare come una migliore partecipazione attiva del paziente all'interno del proprio percorso di recupero favorisse non solo un miglior recupero motorio ma anche una riduzione dei tempi di ricovero abbiamo visto negli ultimi anni il passaggio da tesi sostanzialmente di tipo compilativo e aneddotico a tesi con impostazione scientifica che inevitabilmente sono attraino dell'innovazione nell'ambito delle neuroscienze e con la premiazione di questi giovani studenti si conclude anche l'appuntamento con Dentro il Consiglio vi ricordo per tutte le informazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it io vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento tra sette giorni ancora qua Dentro il Consiglio www.inconsiglio.it www.inconsiglio.it «Istino dadd'T win suit» www.inconsiglio.it Autore dei sorrisi